Partiti, 86esima edizione del Derby Sardo sulla distanza dei metri 2.400. Scatta al comando Quinto Ario, che si porta a condurre nei confronti di Quarello, Quintgold. Quinto Ario, Quarello, percorsia interna e risale Quintgold. Quartz de Mores, Querino, Quadrilio. In quest'ordine i cavalli affrontano la prima piegata che mette addirittura per il primo passaggio con Quinto Ario a cadenzare l'andattura nei confronti di Quarello, Quintgold. Quintgold, Querino, con all'interno Quartz de Mores, Quintness, si avvicina a Quarzo Blu a chiudere il numero 2, Quallily Girl. In quest'ordine i cavalli affrontano il primo passaggio, si preparano alla seconda piegata con Quinto Ario, che mantiene il comando su Quarello. Quintgold, Quartz de Mores, Querino. Andatura piuttosto blanda col Battistrada che guadagna mentre muove Quintgold e si porta in seconda posizione. Iniziano a muovere anche Querino in scia Quadrilio e Quarzo Blu, gruppo che si ricompatta con il Battistrada Quinto Ario, avvicinato all'esterno da Quirino. Terza posizione per Quintgold che ha in scia Quarzo Blu, Quarzo Blu che va in caccia dei due di testa, si porta in terza posizione. Risale in quarta posizione Quintgold con Quadrilio all'esterno, Quartz de Mores fra i due. Inizio della piegata conclusiva con il Battistrada Quirino che ha all'interno Quinto Ario, all'esterno Quarzo Blu che prova ad aumentare l'andatura, mentre prova all'interno anche Quintgold che si avvicina ai due di testa. Quarta posizione per Quadrilio, Cavalli che entrano in dirittura con il Battistrada Quirino attaccato all'esterno da Quarzo Blu. Mentre progredisce all'interno anche Quintness che prova ad avvicinare i due di testa, tende a scartare leggermente Quirino con Quintness all'ostecato che si porta alla comando. Quintness che passa a condurre ai cento conclusivi, Quintness allunga e viene a vincere facilissimo. Quintness e Domenico Mighelli trionfano in questa 86esima edizione del derby al secondo posto Quirino, al terzo il numero 5, quarto Blu, al quarto Quadrilio. E quindi Quintness con Domenico Mighelli che vengono a trionfare e ad iscrivere il proprio nome nell'albo d'oro della manifestazione giunta all'86esima edizione. Domenico Mighelli appunto sul replay che viene a vincere facilissimo a questa edizione nei confronti del favorito Quirino che conclude al secondo posto. Al terzo posto mantiene il numero 5, quarto Blu, con Sandrino Gessa in sella.